N***a che ansia, porco di Dio! GTA è stato già spedito, ma la PlayStation... Porco di Dio, è zitta! Mannaggia la tua madonna, scopo, sorry n***a, sorry. Ti stavo a dire, GTA è stato spedito, ma la PlayStation 5 sta in preparazione, quanta della madonna, eh? Mi metto a piangere? Dommaggia, mi arriva GTA 5, ma no, la PlayStation 5, ma no, la PlayStation 5, porco di Dio!